Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano 2 km di coda per un incidente avvenuto al km 288 e 500 tra l'allacciamento con la 11 e Firenze in Pruneta. Per lavori è chiusa l'uscita di Firenze Sud provenendo da Roma fino alle ore 15 di domani. In questo caso l'uscita consigliata è Firenze in Pruneta sulle corsie di destra. Il traffico invece scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sempre in FIPILI dal 27 al 31 marzo in orario 7.18 per lavori sarà chiusa la rampa d'uscita dello svincolo di stagno in direzione Firenze nel ramo di Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!